Come si chiama Pico di Reggio Emilia? I consulenti in tutto il territorio nazionale e siccome le aziende prima ci chiedevano di fare la documentazione e quindi di fatto i consulenti utilizzavano Privacy Lab come una mera calcolatrice, oggi le aziende sono molto più esigenti, questo anche grazie al nuovo decreto Salvi Italia come l'ha chiamato appunto Monti. Questo fa sì che le aziende oggi non ci chiedano soltanto di fare la documentazione ma ci chiedano anche il perché certe cose vengono fatte con determinate condizioni, quindi per noi è importantissimo insieme a FederPrivacy certificare TUV tutti i nostri consulenti.